Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, come state? Oggi è lunedì di Pasquetta e fuori, finalmente c'è una giornata super super soleggiata anche se fa un pochino freschetto, infatti sono ancora con un maglioncino però ho messo insomma un maglioncino un pochino più leggero di quello dell'ultimo video e cosa volevo fare oggi in questo video? Oggi sono super primaverile, super sprint e ho pure l'allergia perché non so se anche voi soffrete di allergia alle graminacee però io ho tante allergie tra cui soffro anche di allergia appunto alle graminacee quindi adesso che ci sono i fiori, i pollini, insomma aprile e maggio per me sono dei mesi un pochino difficili però qui dove vivo ho anche il mare e quindi diciamo che sto meglio rispetto al Veneto con tutte le piante che ci sono lì però a parte questo, rimaniamo in tema piante perché non vedevo l'ora di registrare questo video perché settimana scorsa, se non ricordo male, venerdì, guardo in alto perché ho il calendario siamo stati in un garden e abbiamo preso delle cosette per l'esterno, delle piante che adesso vi farò vedere e le devo andare anche a reinvasare e lo farò insieme a voi ovviamente penso che farò tipo un voiceover perché devo mettermi all'esterno e ci sono i miei vicini di casa che non vorrei mi prendessero per tipo una pazza che parla da sola con la fotocamera quindi penso farò un voiceover e oltre a questo abbiamo però acquistato anche da Obi un'altra cosina un coffee set, si chiama così, per l'esterno che comunque adesso vi mostro e tra l'altro l'abbiamo anche montato noi perché l'abbiamo appunto preso da Obi però vi veniva dato in uno scatolone completamente smontato soltanto con le istruzioni di montaggio è stato abbastanza semplice montarlo però vi consiglio di farlo in due persone perché ci sono alcuni pezzi di questo coffee set che devono essere tipo incastrati quindi bisogna essere in due per riuscire appunto a spingerli, a farli entrare nell'incastro insomma comunque direi che vi metto innanzitutto la clip dove saremo vestiti io e il mio ragazzo in maniera diversa perché l'ho girata un po' di tempo fa e vi faccio vedere tutta la parte di montaggio e poi invece ci mettiamo all'esterno e poi 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 ci mettiamo all'esterno il coffee set che abbiamo preso è questo è composto praticamente da due poltroncine che sono bellissime sono completamente in plastica con il cuscino che si può togliere e c'era anche il tavolino compreso insomma nel prezzo ora ve lo faccio vedere meglio sul tavolino sono andata a posizionare questa pianta che però si è un po' tipo schiacciata in realtà l'altro giorno era un po' più tipo un pallone spero che non mi stia morendo e non mi ricordo però come si chiama magari ve lo metto qui in sovraimpressione mentre spostandoci a destra in questo angolo sono andata a mettere questo ranuncolo che è giallo ed è bellissimo però anche questo mi sta un pochino amosciando insomma i fiori si stanno un pochino rovinando quindi spero di riuscire a farlo vivere mentre spostandoci a sinistra abbiamo il resto di piante che ho preso ora si vede malissimo perché c'è il sole da questo lato comunque abbiamo preso delle margherite che sono super belline e una pianta di limone che ha già tra l'altro un limone mentre qui insomma ci sono i futuri limoni che si stanno facendo e l'ho posizionata da questo lato eccomi allora ho cercato di parlare un pochino piano mentre ero fuori per non farmi sentire dai vicini però tra l'altro le riprese sono venute secondo me malissimo almeno dalla fotocamera vedevo che venivano molto scure perché c'è il sole proprio addosso da questo lato e quindi le riprese erano in controluce e vabbè pazienza spero abbiate visto lo stesso comunque vi metterò magari anche il nome o il link del coffee set noi l'abbiamo pagato 99 euro perché c'era un'offerta però in realtà adesso l'offerta non c'è più e se non sbaglio viene a 139 euro è fatto davvero molto molto bene e onestamente per questo prezzo vi consiglio insomma di acquistarlo perché secondo me è un ottimo prezzo poi ovviamente ci sono anche il coffee set che hanno dei prezzi molto più elevati però noi volevamo comunque una cosa diciamo abbastanza economica e abbiamo trovato questo allora ragazze e ragazzi io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto fatemelo sapere qui sotto e soprattutto se avete dei consigli su come tenere queste piante per non farle morire lasciatemi lì qui sotto che vi leggo tutti quanti oppure non so scrivetemi in direct su instagram se avete consigli sono super bene accetti un bacione a presto ciao ciao